Bella a tutti ragazzi qui Willy J e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua su GTA 5 con una nuova guida al trofeo ragazzi dopo un gasino di tempo E vi dico il nome del trofeo ovviamente questa guida al trofeo si basa sul trofeo accolito altruista Ragazzi cosa dovete fare per questo trofeo? Allora semplicemente prima cosa dovete selezionare il personaggio di Trevor Dopo che avete sbloccato il personaggio di Trevor perché appunto si sblocca ragazzi perché ancora non lo sapesse E appunto quando l'avrete sbloccato dovrete dirigervi con Trevor almeno sul next gen così qua ragazzi in questa precisa location Per sbloccare diciamo questo punto della mappa perché all'inizio sarà tipo tutta chiara senza niente Quindi non si vedranno le strade voi dovete andare semplicemente in questo luogo appunto per vedere nella mappa di Trevor appunto che quel luogo diciamo esiste Dopo fatto ciò ragazzi recatevi di notte in questa zona ragazzi precisamente accanto al barbiere Dove c'è qua c'è l'ospedale siamo nel Gran Zenora Desert qua la casa di Trevor E ci dovete venire con Trevor ragazzi veniteci verso questo orario che ci sono venuto io E come vedete ci saranno questa coppietta Ci sarà questa coppietta voi dovrete semplicemente avvicinarvi alla coppietta Come avete visto appunto loro ci chiederanno di farci un favore a loro E cosa dobbiamo fare? Loro dicono puoi riportarci al nostro motel E ovviamente noi possiamo fare sia portarli al motel Ovviamente prendiamo la loro auto ragazzi non possiamo prendere la nostra E noi appunto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo o accompagnarli all'hotel Oppure come avete visto di tanto andando Trevor può portare dei passeggeri casuali alla setta degli altruisti Situata qui ragazzi Quindi voi che cosa dovete fare appunto nel punto dove avevo detto prima Dovete andare qua Ma mi raccomando prima di fare ciò Assicuratevi appunto che avrete sbloccato diciamo Quella parte della mappa Se no questi due tipi qua diciamo sbronzi non ne appariranno mai ragazzi Quindi è tutto una specie di sbloccaggio E quindi adesso ci sarà un lungo viaggio anche con quest'auto molto ma molto lenta Quindi velocizziamo il tutto Alla prossima Ok ragazzi ormai siamo quasi arrivati Come vedete quella lì è la base dove dobbiamo portare questi poveracci ragazzi Ovviamente è stato un bordello arrivare qua perché verso il metà tragitto avete visto tutti cosa hanno fatto ragazzi Cose da Peggy18+, e una volta arrivate qua ragazzi si sbalancheranno le porte Come vedrete salve buon uomo ovviamente prenderanno questi due tipi Che ovviamente Trevor collabora con gli altruisti ragazzi Quindi noi portando questi due tipi lì ignari Ovviamente ecco qua come avete visto abbiamo guadagnato il trofeo accolito altruista Allora ragazzi prima di concludere il video comunque vi ricordo di nuovo gli spawn Gli spawn sono qua c'è quello della coppietta come vi avevo detto Poi qua ragazzi spawn una tipa sempre sbronza ragazzi Verso dalle mezzogiorno mi sembra verso le tre una roba del genere E poi anche in giro per la mappa io per ora conosco solo queste due location E comunque ragazzi che dirvi io spero che questa guida al trofeo vi sia stata utile ragazzi E appunto ragazzi fatemi sapere se la guida al trofeo vi è piaciuto Come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un bel like Se volete passate dalla pagina di facebook la trovate in descrizione Iscrivetevi al canale per nuovi video Qua da WilliJ è tutto Bella raga Ciao 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 Grazie.